Vaccini anti-covid 24 ore su 24, Palermo fa da pripista. L'Hub della Fiera del Mediterraneo aumenta al massimo i suoi sforzi per dotare la città di un polo vaccinale sempre aperto giorno e notte. Si tratta del primo hub siciliano a vaccinare H24 e per quanto a conoscenza della struttura commissariale di Palermo, anche del primo hub H24 in Italia. L'obiettivo è a incrementare le somministrazioni di 2.000 unità al giorno, arrivando a 6.000 vaccini al giorno nel solo hub provinciale di Palermo. Si parte stasera. Dalle 8 alle 24 si vaccinerà nel solito padiglione 20 che chiuderà a mezzanotte in punto. Dalle 24 alle 8 vaccini al padiglione 20A che chiuderà invece al mattino in contemporanea con la riepertura del padiglione 20. La vaccinazione al padiglione 20A sarà aperta solo ai cittadini nelle fasce 16-59 anni con patologie non gravi e 40-59 anni senza patologie. Il nuovo polo vaccinale sorge in un'area da oltre 1.600 metri quadrati. Può ospitare un massimo di 270 persone. Comprende altri due corridoi vaccinali per un totale di 7 con i 5 del padiglione 20. Le postazioni vaccinali saranno 16. All'interno del nuovo spazio si snoda il percorso di anamnesi, somministrazione e osservazione post vaccino proprio come il padiglione 20. Circa 70 le unità di personale impiegate tra medici, infermieri, amministrativi, volontari e sicurezza. Da stasera la Sicilia comincia a correre nella campagna vaccinale.